Ciao ragazzi, oggi facciamo la partita di Juve e Inter! Io sono l'Inter e mamma sarà la Juve! Forza Juve! Vediamo che vince Sicardi o Ronaldo questa partita! Iniziamo? Sì! Siediamo la nostra squadra! Io voglio Mario, dov'è? E' quello! Tu prendi Sony? Io prendo Yoshi! No! Poi prendo Yoshi! Io prendo... No! Quello è io adulto! Come si fa a cancellare? E' uno! Aspetta! Grazie! Io voglio la principessa! Io ho scelto Yoshi! Io ho scelto Yoshi! C'è se vince Cardi! Forza Cardi! Non vince Ronaldo questa volta eh! Chi è più forte Ronaldo o Cardi? Più di due! Ronaldo! Icardi! Forza Juve! Vediamo se riesco a fare qualche ruolo! Pronti? Iniziamo questa vera partita! Dai dai! Volucci! Lui è Mauro e Cardi! Passa la parata! Parata! Dei Volucci! Mauro e Cardi! 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 Forza Ken! Dov'è Ken? Passa la parata! Di Mario e Cardi! La passa Yoshi! Yoshi la passa Mauro e Cardi! No! L'ha passata in quartiere! Forza Ken! Dov'è Ken? Forse non c'è in campo! Forse è in panchina! È in panchina Ken! Com'è in panchina Ken? Il Ronaldo? No! No! Oh! 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 Qual'è la mia porca? Quella di là? Si! E la mia dell'altra parte! Vabbè ha sbagliato Ronaldo ha fatto gol! Ma sei la principessa! Ah! Guarda già va finita con Massimo ci sono! Dai! Dai! Bonucci! No! Oh! Parata! Madonna, Mauro Icardi! Soni! Forza Juve! Soni non la facciamo Mauro Icardi! Mauro Icardi! Parata! 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 La parata a Ronaldo! La parata! No, ma! La parata in portiere! Non Ronaldo! Forza Juve! Forza Juve! Fuori! Adesso siamo! L'animo rigore! No! Parata! Guarda! Ma questo Icardi è forte eh! Ok, Ronaldo! Vai! Forza Juve! Ma Mario dove tira? E' Luigi quello! Quello è Luigi! Ma passa Yoshi! Yoshi! Mauro Icardi! Fallo! E' fallo! E' fallo! Ancora fallo! Oh! Falta! Forza Juve! Oh! 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 Vai Ronaldo! Dov'è Ronaldo? Ronaldo non fa gol alla sua squadra! Dai Juve! Dov'è la Juve? Tempo è scaduto! Tempo è scaduto! Finito il primo tempo! Secondo tempo! Cambio campo! Io non cambio mai! Sono già pronta! Cosa Juve? Uno! Io non vedo mica il mio giocatore della Juve! Ma qua è caduta! Chi è caduta? E' la mia principessa! Fallo! Ma tu sei Mario? Chi è Mario? Chi è Mario? Chi è suoni? Sono io! Sì! L'ho preso io solo! Sì! Eh ma poi tu l'hai cancellato e me l'hai dato a me! Dai Juve! Forza Juve! Mauro Icardi se ne ce ne ha! Guarda! Forza Icardi! Ma guardi! La passa Yoshi! Yoshi corre! Come la madonna? E fallo! Come fallo? Scello ora! Ma dove va Mario? Non prende neanche la palla! Venga! Mauro Icardi in zero! Suoni! Non hai prigione! No! 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 Non hai prigione! Scello! Forza Juve! La Juve! Sera Mario Icardi imparata! La Juve oggi è un po' scarsa eh! Non fa neanche gol! Guarda dove lancia tutta fuori campo! No! La passa Mario Icardi! Mauro Icardi mandata! Mauro Icardi! Mauro Icardi! La parata! Ronaldo! Finetempo! Mauro Icardi! Mauro Icardi! Mauro Icardi! Mauro Icardi! Basta a fare gol questo hit! Sì! Parata! 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 Forza! Yoshi! Pochi! Lo ha apro! Pochi! 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 Non ho provato! Ma Icardi è il capitano? Sì! Dell'Inter? Sì! Non lo so. Tempo è scaduto! Allora vado qua E vince il leader per oggi Forza il leader Sperate che questo video vi sia piaciuto Ciao ciao da Krikli, JTV e da Mauro, Icardi Ciao ciao E tre volte ha fatto gol, 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 gol Gol, 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 gol